Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Piena di criminali, anzi una piccola challenge, trova un italiano in corso a Buenos Aires dopo mezzanotte Forse lui, scusa bro sei italiano? Grande bro, un saluto al mio fratello italiano No ma siamo tutti fratelli eh Oggi Senti, non cambiarmi per gli altri sceni, vuol cazzo, volentieri Ah, ah, baby, mi fai una sega, passa montagna, non farmi te farmi Ciao E risolvi questo un altro E bisogna chiedere se vengono dal concerto E se venite dal concerto? Sì Possiamo fermarvi un secondo o siete troppo importanti per potervi fermare con noi mortali? No, siamo pericolosi eh No, 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 non vi facciamo una cosa No, no, è impossibile Fra io vengo da Frosinone, vengo da Frosinone, sono della mia ragazza E a me che cazzo me ne frega E a me che cazzo me ne frega? Vuoi fare una foto? Eh certo, dai Vi fa un saluto? Sì Ciao Vai bro, è un video questo eh Sì Vuoi fare un saluto da Paolino e Federico? Ma cazzo sono un centralino? Ah, vai, ciao Paolino e Federico, un bacio, un bacio Grazie fra Grande bro Ci stiamo fa una foto No No Vabbè E allora E allora E allora E allora E allora Sono Maranza io Adesso mi scavalo tutto il negozio E allora Sto scherzando eh Ciao Ehm Le colline Ti piace pianura, collina o montagna? Montagna Montagna Mare Puoi vedere? Oh Ci sei tatuata pure una montagna Allora sei un'intenditrice No Ma ti piacciono di più le montagne Con la punta Spigolosa o con la punta arrotondata? La punta Pointu Con la punta Davvero lo sto traducendo Spaniale Uguale Oh Interessante vero Vabbè ragazze Vi lascio andare a casa Buona sera Ciao Vi siete persi Una fantastica serata Di drink offerti Mi spiace per voi Ciao Buonanotte Buon riposo Ciao piccole Minchia Mi hanno riconosciuto Le ragazze C'ho anche Femmes Donne C'ho anche Femmes Donne Come state? Io voglio fare regalo a voi Cosa regalo? Mancia Per vostro lavoro Voi siete qua alle 2 a lavorare Voi vi meritate mancia Cazzo però non Quale vuoi? Soldi? Soldi Soldi per voi Dai 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 Figa 4 euro 2 euro a te Sì E 2 euro a te Perché voi siete veri lavoratori Vi meritate Straordinari Nessuno viene qua a comprare Io non compro niente Ma vi regalo soldi Perché è quello che vi meritate Ciao 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 boss Ragazzi Ketamina No minchia Mi pullappano questi Scappa Gabronski Scappa Scappa Gabronski Sei in tempo Sei ancora in tempo Sei ancora in tempo bro Dipende molto dal trasporto che si ha nell'atto Il tuo è di 9? Allora andiamo subito a vedere Visto che parliamo in questa puntata di dimensioni e di centimetri 9 così 9 così Dai ma lo vedete 9? 9 così Quindi va bene Quindi va bene Come va bene? Vabbè ragazzi 9 centimetri va bene Regà dopo vai in Irla? Non lo so bro Ho messo un sub goal per andare in Irla Che sarebbe a 50 sub Ma dubito Non lo so vediamo Dipende quanto rimango a giocare bro Cioè se rimango tipo 3 ore a giocare E non sono arrivato a 50 sub Fa il culo Ma ne rimango a casa A dormire Ma da risolto Con 500 euro Quanto duri? Ma posso durare anche 6 ore Come posso durarne 2? Ok No no ma rispetto infatti Fito è il marato Un paio di domande Su come sta diventando questa Petropoli E su come si sta evolvendo La socialità in queste strade Tra virgolette Vi è mai capitato Che qualcuno vi chiedesse una sigaretta Sui navigli? Sì E come è andata? Mi ha chiesto la sigaretta E io sono gentile E io sono gentile Ok Non mi è mai successo Che qualcuno potesse arrivare Le maniere forti Pur di ricevere questa sigaretta A me no Non è mai successo Mai successo? Però sono che è successo ieri Com'è successo ieri? No è successo qualcuno ieri Cioè? Grambaut quindi Ma non avete ancora detto che cazzo è? E chi è il vostro membro preferito del circo? Io sono 16 anni Ah beh l'età giusta per le ragazze Con cui va Gio Voglio davvero bene a Gio Perché lui ragazzo Ma se è un posto Sempre Ma chi è Giolli? Giolli Gio il trucchetto Quello che fa la raggi Sì Ok Gaia, non so se posso scrivere Gaia, con due A, Santa Croz Se noi ci dite se avevamo ragione noi o loro? No, abbiamo ragione No, è una bambina di due anni che ti prende i vedi No, però chi gli avevamo ragione noi o loro? Avevamo ragione noi o loro, raga? Sul fatto delle tipe Che non possono mettere foto di culo perché sennò tutti non si seggano più Questa è un attimo Ok, tranquillo, tranquillo Toh Musa, toh Porco dio Allora Gab, questa esperienza col Musa Sei due generazioni che si scompa Ho reagito di istinto Sei un animale No, non le voglio le tue Lucky Strike Rosset Oh, muovilo baby E alzate le mani come per il nostro No La piccosa che non ce l'ho Guardate Si vede voi Ciao Zero Zero, siamo in zero Entra Seba Cosentini Non c'è nessuno Sono zero persone Guarda Zero Va bene, allora Ciao Ciao, zero persone Grande live Boh, ti faremo la sab Ah, ma ho capito chi sei Ah, ma ho capito chi sei Scusate, cosa dicevi? Twitch penso No, i video nelle class Come ho capito? Il video chiamo Vabbè Quando c'eri video... Oh, come si chiama? Grazie Oh, Classroom Come si dice Vido elezioni Entravi, vero? Ah, ho capito chi sei Sì, sì, sì Perché zero persone? Perché dissi Ma ci fai i soldi con Twitch? Eh no, se zero persone Però che soldi devo farci? Boh, magari io normalmente Ne hai più di zero Cioè, sennò Che cazzo lo fai a fare? Ma queste persone... Allora ragazze Io non voglio essere Cattivo Ma mi dovete tirare fuori I portafogli Non voglio essere cattivo Io ve lo dico, eh No, non sto scherzando No, no No, no Tranquillo Non te lo do, quindi Ma va bene, va bene No, ma non sono... Perché tanto non ci sono No, non sono... Assolutamente, assolutamente Che anno siete di design, voi? Terzo Terzo Io perché c'ho un amico Che andava all'academia Passo, magari Vado a prendermi Faccio un giro Magari se ripasso Che vedo se hai ancora qua Ripasso Va bene Grazie a te Ciao, ciao Ci veniamo Ciao, ciao, ciao Grazie a te Ciao, ciao, ciao Insomma Il mani... Il... 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 Il Django Tutto... Tutto normale, raga 3, 7, 3, 2 7, 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 7 Grazie a tutti. Grazie a tutti.